Sei costantemente stanco? Ti manca la concentrazione, la forza o hai problemi intestinali? Potresti essere elettrosensibile. Ti sei mai chiesto come le frequenze invisibili delle torri cellulari, del microonde, del wifi o di altri strumenti elettronici possono inquinare te e la tua famiglia? Gli studi scientifici sul benessere hanno scoperto che queste frequenze subatomiche colpiscono la funzionalità delle nostre cellule. Questo è un fenomeno nuovo ed è stato difficile rilevarlo fino ad ora. La nuova scienza della mappatura epigenetica mette in evidenza l'influenza di questi fattori ambientali. La mappatura utilizza le informazioni della radice del capello. I capelli fungono da antenne e indicano le influenze ambientali a livello cellulare. I fattori ambientali che attivano o disattivano l'espressione genica. Il processo di mappatura è importante e richiede solo pochi istanti. Viene eseguito da esperti in più di 61 nazioni nel mondo. Il report con la mappatura è molto dettagliato ed evidenzia l'effetto che i vari inquinanti ambientali hanno sul tuo apporto nutrizionale. Il report suggerisce anche vari alimenti nutrizionali, i succhi e l'acqua, ottimale per aiutarti a combattere gli impatti di elettrosensibilità o l'urto ambientale a livello cellulare. Sunwell Bing usa dei sistemi informatici sicuri e all'avanguardia per l'elaborazione di ogni report. I risultati vengono forniti nel giro di poche ore. La nostra tecnologia ha aiutato centinaia di migliaia di clienti a migliorare il benessere e riprendere il controllo della loro vita. Crediamo che il cibo e lo stile di vita forniscano la migliore medicina a lungo termine. Esegui la tua personale mappatura epigenetica oggi. Contattaci Per info epinutracel at gmail.com oppure 393 914 2000 0187 17 80 859